I carabinieri del nucleo investigativo del gruppo forestale di Napoli, nell'ambito dei controlli delle attività a ridosso della zona del fiume Sarno, hanno denunciato per gestione illecita di rifiuti, inquinamento ambientale e scarico abusivo delle acque reflui industriali, illegale rappresentante di un'attività di un'industria conserviera nel comune di Scafati. I militari hanno scoperto che le acque e i reflui industriali fossero scaricati direttamente nel controfosso destro del fiume Sarno, destinati a sfociare in mare lungo la costa napoletana. Grazie alla collaborazione con personale della ARPAC, i carabinieri hanno posto sotto sequestro un'area di 2400 metri quadri, nella quale erano stoccati rifiuti pericolosi e non derivanti dal ciclo produttivo, in corso campionamenti delle acque di scarico da parte dell'ARPAC per accertare la concentrazione di inquinanti, ancora a Scafati. Gli stessi militari hanno scoperto che un'altra industria conserviera locale aveva installato nelle condutture un ingegnoso sistema che bypassava gli scarichi reflui, e li deviava direttamente nel fiume Sarno. Una sorta di paratoia che aperta all'occorrenza permetteva di evitare la tradizionale filiera di trattamento dei rifiuti, immettendo senza filtri gli scarti nell'ecosistema fluviale. Anche in questo caso il titolare della società è stato denunciato.